Una gita in barca a vela col papà finita in tragedia che ha lasciato sgomenta e sotto shock l'intera comunità di Agropoli. E' quella avvenuta sabato pomeriggio a largo del porto turistico cilentano, dove un ragazzo di appena 15 anni, Biagio Manganelli, è annegato sotto gli occhi del papà Giuseppe, socio del locale circolo della Lega Navale. Approfittando della bella giornata estiva, i due avevano deciso di uscire in barca per fare il bagno, ma qualcosa è andato storto. L'allarme è scattato quando, sugli scogli posti sul retro dell'area portuale, è stata segnalata una barca a vela spiaggiata priva di equipaggio. Sul posto è intervenuta una motovedetta della locale guardia costiera, che oltre a recuperare il natante ha verificato chi fosse il proprietario. Ottenuti i risconti del caso, immediate sono iniziate le ricerche in mare. A largo del porto è stato prima recuperato il genitore, stremato ma vivo. Dopo diversi minuti è stato poi individuato anche il minore, rinvenuto purtroppo cadavere in acqua. Entrambi sono stati portati sulla banchina, con scene strazianti, quando la madre Clelia ha appreso che sulla motovedetta vi era il corpo privo di vita del quindicenne, figlio unico, grande appassionato di vela, proprio come suo padre. Un dolore atroce per una morte precoce che ha pervaso stamane la chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Agropoli, stracolma di persone per i funerali del giovane, dove il parroco Don Bruno Lancuba, nella sua omelia, ha provato a lenire l'atroce dramma dei genitori, distrutti e sconvolti per la tragedia attorno ai quali si è stretta tutta la città di Agropoli per rivolgere l'estremo saluto a Biaggio, un giovane concittadino volato troppo presto in cielo per un destino ingiusto. Il sindaco Adamo Coppola, presente alle esegue, ha proclamato il lutto cittadino.